Dopo il pareggio casaligo conquistato contro la Juventus nella venticinquesima giornata di Serie A, l'Atalanta si appresta ad ospitare i greci dell'Olympiakos nella gara di andata dei play-off di UEFA Europa League. Il punto ottenuto contro i bianconeri che si sono presentati al Gavi Stadium con il tridente e l'obiettivo di vincere è sicuramente importante, anche se all'Atalanta resta il rammarico di non aver fatto sua questa partita. La vittoria è infatti sfumata nei minuti di recupero, al 47esimo per la precisione, quando Danilo ha pareggiato la rete nerazzurra di Malinowski, un'altra perla dell'Ucraino. Adesso testa l'Olympiakos con qualche certezza in più. L'Olympiakos si presenta al Gavi Stadium, imbattuto in campionato e qualificato in Coppa di Grecia. Poi, giovedì 24 febbraio, il re-tour match al Pireno. Io ho un paio di Grecia, quindi la cultura di Grecia è sempre difficile da andare, io ho già già stato con il mio precedente club, quindi non è facile. E abbiamo bisogno di concentrare per ottenere tre punti. E abbiamo bisogno di concentrare per ottenere tre punti.